Gentili telespettatori, buona giornata, fiducia nei leader, sondaggio Sky TG24, quorum Utrend. Vediamo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha il 60% di fiducia negli elettori, poi segue Giorgia Meloni con il 37%, poi Giuseppe Conte con il 35%, entrambi in salita di un punto percentuale, resta costante Antonio Tajani al 24%, raggiunto da Salvini sempre al 24%, più 1%, nessuna variazione degli indici di fiducia per Ellis Line al 22%, Carlo Calenda al 16% e Matteo Renzi al 12%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.